Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di questo nuovo Osprey Exos Pro da 55 litri Lo zaino che va a sostituire l'Exos che abbiamo visto l'anno scorso Uno zaino ancora più leggero di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito parlando delle caratteristiche di questo Osprey Exos Pro Come dicevo io ho la versione a 55 litri, anche perché è l'unica in commercio Esiste invece la versione femminile chiamata Asia Pro Pensate appunto per il mondo femminile Per quanto riguarda lo schienale troviamo la tecnologia Airspeed di Osprey Il materiale è molto interessante perché è un nanofly, molto leggero, molto resistente Che adesso poi andiamo a vedere E appunto con la leggerezza è la caratteristica numero uno di questo zaino Pensate che nonostante abbia 55 litri come volume pesa solamente un chilo Adesso però dopo che abbiamo visto le caratteristiche procediamo col vederne i pregi e difetti Iniziamo come al solito a parlare dallo schienale Come vi dicevo qui troviamo la tecnologia di Osprey chiamata Airspeed Uno schienale a rete molto traspirante Davvero la traspirabilità è probabilmente anche la caratteristica numero uno che mi piace di più di questo zaino Uno zaino con una traspirabilità eccellente, regolabile, in altezza Ma la regolazione non mi è piaciuta È composta praticamente da un anellino da andare a incastrare E vi assicuro che ogni tanto l'anellino esce Quindi ogni tanto mi è capitato di avere lo zaino che mi cadesse E sentire proprio lo zaino cadere nel vuoto Perché questo tipo di regolazione non tiene a carico pieno A me si è aperta diverse volte Quindi secondo me quella presente sul modello precedente era migliore Continuiamo ad analizzare lo schienale arrivando a parlare della fascia lombare Questa fascia lombare è veramente molto minimal Beh, come tutto il resto dello zaino Troviamo nella parte destra una taschina dove poter andare a riporre un telefono chiuso da zip E una taschina nella parte sinistra dove possiamo riporre qualche altro accessorio non chiuso da zip Comunque un pochino elastica e gli oggetti non saltano fuori se non troppo piccoli Come mi è piaciuta questa fascia lombare? Sì e no Diciamo che fino a 10 kg come contenuto dello zaino lavora anche abbastanza bene Il problema sta quando superiamo i 10 kg che gli inizia a lavorare male e tende a tagliare un pochino i fianchi In generale poi è una fascia lombare molto stretta Molto stretta, l'avrei preferita un pochino più lunga e magari anche un pelino più pretensionata Che sarebbe andata decisamente meglio Per quanto riguarda invece la chiusura sulla parte anteriore fatta con la classica cinghia ad andare a richiudere Non ha nessun problema, lavora molto bene A livello di spallacci anche loro lavorano molto bene, molto areati, molto comodi C'è possibilità di regolarli su in giù tramite delle posizioni prefissate da osprei Abbiamo il fischietto all'interno della chiusura pettorale e anche la chiusura pettorale appunto lavora bene Continuiamo analizzando la parte anteriore di questo osprei partendo da uno dei suoi lati Vi preannuncio che i lati sono simmetrici perciò non c'è bisogno che li vediamo entrambi, ne vediamo solamente uno Sulla parte laterale cosa troviamo? Troviamo una tasca dove andare a riporre la nostra borraccia Una tasca abbastanza alta, la borraccia riusciamo a prenderla e toglierla in autonomia L'unica cosa, non mi è piaciuto tanto questo tipo di mesh che ho utilizzato da osprei Probabilmente volendo fare lo zaino molto leggero hanno scelto anche un mesh molto leggero E questo tende a strapparsi molto velocemente Io l'ho utilizzato non così tanto e vi assicuro che ha già qualche strappo In tutta la parte laterale poi troviamo diverse cinghie da andare a richiudere per andare a diminuire la grandezza dello zaino Cinghie che comunque lavorano bene, molto semplici da utilizzare In generale poi per quanto riguarda tutta la parte di chiusura delle cinghie Mi sono trovato bene, davvero Mi piace poi che lo zaino si possa richiudere se non utilizzato completamente da pieno Arriviamo a parlare della parte posteriore di questo zaino, quella vera e propria Cosa troviamo? Troviamo una tasca a soffietto dove possiamo andare a riporre un secondo strato Ho messo un kit medicinale ad esempio Molto classica, anche lei fatta con la parte estensiva del mesh della retina che vi dicevo prima In generale comunque lavora molto bene Non è richiudibile ma utilizzando le cinghie superiori si può andare ad appiccicare allo zaino Quindi comunque questa lavora molto bene Per quanto riguarda la possibilità di stivaggio dei bastoncini possiamo portarne o tutti e due da una parte Oppure fare uno da una parte e uno dall'altra E volendo ci può stare anche una piccozza all'interno Quindi abbastanza polivalente Per il resto nella parte posteriore non troviamo altro Pur essendo uno zaino da 55 litri non c'è una possibilità di andare ad aprirlo In qualche modo che non sia dal cappuccio superiore Questo bene ma non benissimo Nel senso che comunque volendo fare uno zaino ultra light Sono dovuti andare a risicare anche qua e mettere una qualsiasi cerniera per poter aprire lo zaino Nella parte inferiore costava peso Quindi lo zaino a sacca unica Qualsiasi cosa voi andrete a porre in fondo Dovrete obbligatoriamente svuotare tutto lo zaino per andare a recuperarla Arriviamo a parlare del cappuccio Il cappuccio innanzitutto è rimovibile Così possiamo togliere ancora 75 grammi da questo zaino E nel caso dovessimo rimuoverlo c'è una copertura per poterlo chiudere E per quanto riguarda il cappuccio ha semplicemente una tasca posta nella parte esterna Abbastanza grossa, molto generosa Ci sono dentro davvero tanti oggetti E per il resto nient'altro Finisce qua, un cappuccio molto semplice Però comunque bello funzionale Continuando, parlando di tutta la parte di chiusura Questa è veramente molto semplice Basta semplicemente tirare un cordino e lo zaino si chiude Allo stesso modo basterà ritirare il cordino e questo si andrà ad aprire Quindi è una chiusura molto semplice e molto classica Per quanto riguarda il comparto acqua non è presente il rain cover Abbiamo la possibilità di portare due borracce nella parte esterna sulle due tasche E poi all'interno si può mettere la sacca idrica con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore Arriviamo però a parlare di questo materiale, il Nanofly È un materiale, secondo me, veramente buono A livello di durabilità non penso che ci siano problemi Davvero, è un materiale buono Io l'ho strusciato contro diverse rocce Non ho avuto nessun tipo di abrasione Anche le cuciture, pensate allo zaino, eccetera Hanno retto alla grande Pensate che io per provarlo ho deciso di caricarlo con 15 kg Nonostante il massimo, come vi ho detto, sia 10 E non ho avuto nessun tipo di cedimento Quindi davvero un buono zaino dal punto di vista dei materiali Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Osprey Exos Pro 55 Ve ne consiglio l'acquisto? Sinceramente no E i motivi sono due, che adesso vado a spiegarvi Il primo è lo schienale Come vi dicevo, stende ad aprirsi la parte regolabile E questo è un bel problema E poi in generale l'ho trovato un pochino meno prestazionale rispetto al modello dell'anno scorso Quello non Pro Nel particolare intendo la fascia lombare La fascia lombare, secondo me, è andata a peggiorare Porta meno peso e tende ad essere anche un pochino più tagliente sui fianchi Quindi già questo mi ha fatto storcere abbastanza al naso E il motivo numero due È che, pensateci un attimo 55 litri Massimo 10 kg Che poi 10 kg Già un chilo è di zaino Un altro chilo magari d'acqua Vuol dire che dovremo portare tutto il nostro corrente Massimo 8 kg È veramente difficile Quindi questo è uno zaino, secondo me, sproporzionato Fosse stato fatto come modello da 45-48 litri, come era l'anno scorso Ci poteva ancora stare Ma così è decisamente troppo grande Cioè il litraggio è veramente troppo ampio rispetto a quello che può garantire la fascia lombare e lo schienale Quindi è troppo grande Se volete uno zaino ultra light Magari aggiungete qualche gramma in più ma resterei sull'exos dell'anno scorso Anche perché costa meno Questo zaino qua, nuovo, costa 250 euro Il modello precedente ne costava un po' meno Quindi sinceramente, secondo me, questi sono di quegli zaini che sono andati a rivoluzionarlo Sono andati a cambiarlo Ma non in meglio Detto ciò, ragazzi E ora è una speranza che sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata E noi ci vediamo alla prossima Ciao! Ciao!